Un ciao a tutti i vedi a Rosi e benvenuti all'appuntamento con la nostra vetrina dell'auto. Siamo sempre in compagnia di PM Auto, però in un'altra sede e ne parliamo con Luca Pedretti, che saluto. Ciao Luca. Ciao Rosi, buonasera, buonasera a tutti. Eccoci nella nostra sede di Fidenza, in provincia di Parma. Qui a Fidenza rappresentiamo ufficialmente i marchi Nissan e Suzuki e a livello di assistenza i marchi Nissan, Opel, Peugeot e Citroen. Anche qui a Fidenza abbiamo tantissime vetture e veicoli commerciali chilometri zero di diverse case automobilistiche. Siamo a due chilometri dall'uscita autostradale, ma se avete difficoltà a trovarci, contattateci che vi mandiamo la posizione. Tra poco con noi arriveranno Emanuele e Francesco, che vi faranno vedere un pochino tutti i dettagli delle vetture esposte nel nostro salone di Fidenza. Comunque questi dettagli potete tranquillamente vederli nel nostro sito www.pmauto.com Ciao sono Emanuele, oggi vi parlo di Nissan Qashqai. Questa è la versione e-Power, vettura elettrica dotata di un motore a benzina, che ti permette di percorrere mille chilometri con un pieno. Emanuele è qualcosa di veramente straordinario, perché tu, come hai detto tu giustamente, ha un motore, è una vettura elettrica, ma anche il motore a benzina, che funge da generatore, quindi ricarica la batteria. Questo che cosa vuol dire? Nessun pensiero, è massima autonomia. Mi sembra veramente molto interessante la paura che abbiamo tutti quando parliamo di vettura elettrica. Qual è? Quella di doversi fermare, di dover ricaricare, di doverla attaccare alla spina. In questo caso, qui non c'è nessun bisogno di attaccare alla spina, perché abbiamo un motore a benzina, tre cilindri, appositamente studiato, per fare da generatore di corrente alla nostra vettura. Quindi è una cosa veramente straordinaria, avete sentito una percorrenza di mille chilometri, fate quasi tutta l'Italia, se dovete andare in vacanza, senza dovervi fermare, senza nessun tipo di pensiero, appunto avendo sia il motore a benzina che la batteria, quindi andando anche in elettrico. Ci descrivi anche un po' di accessori, a parte la bellezza, Cascay ormai è un prodotto notissimo. Sì, Cascay rappresenta la vettura di grande successo, è compatta ma veramente spaziosa all'interno. Abbiamo ad esempio le portiere che si aprono a 90 gradi, quindi che permettono un'entrata e un'uscita in massimo comfort, un buonissimo bagagliaio. Davvero molto molto strazioso, anche appunto il bagagliaio, per cui parlavamo di vacanza. Esatto, vi permette anche di dividere il carico molto facilmente con questi appositi divisori. E l'interno con gli display digitali da 12 pollici, 12.3, totalmente digitali, anche qui con il massimo della chiarezza, che caratterizza il marchio Nissan. Perfetto, sicuramente ormai Cascay penso che sia veramente iconica, perché c'è da tantissimo tempo, è stato un grandissimo successo già quando è stata lanciata, e insomma diventa sempre più bella. Una cosa importante, in questo momento ci sono anche delle promozioni per quanto riguarda l'acquisto, giusto? Assolutamente sì, Nissan ci garantisce 9.000 euro di eco bonus su tutta la gamma Nissan. Perfetto, quindi sia che abbiate una vettura da rottamare, sia senza? Assolutamente sì, anche senza rottamazione. Perfetto, quindi eco bonus per tutti. Se avete una vettura da cambiare bene, se non ce l'avete va bene lo stesso, avete l'opportunità di usufruire di questi eco bonus, quindi approfittatene. Proseguiamo con il resto della gamma? Andiamo. E adesso guardiamo la nuova X-Trail con la motorizzazione Power. Qui abbiamo una vettura di grandi dimensioni per la famiglia, grazie agli eco incentivi Nissan di 9.000 euro, possiamo avere questa bellissima vettura a partire da 34.000 euro. E la nuova X-Trail si può avere 5 posti o 7 posti con abbinato il 4x4. Solo da PM Auto abbiamo disponibili 40 vetture pronte a consegna. Li aspettiamo. Ed ora nuova Juke, il nostro piccolo crossover che si può avere in due motorizzazioni, benzina e full hybrid. Grazie alla dotazione full hybrid, al motore full hybrid, abbiamo ottimi consumi che rientrano nelle normative EuroShay. La nuova Juke è caratterizzata da un nuovo display interno digitale 12 pollici con navigazione integrata che vi permette di viaggiare ovunque. Nuova Juke parte da 19.900 euro grazie agli eco bonus Nissan in vigore in questo mese. Vi aspettiamo. Da PM Auto potete trovare tutta la gamma veicoli commerciali Nissan. Vi ringrazio per l'attenzione ed ora passo la parola al mio collega Francesco. Ciao a tutti, benvenuti nel nostro showroom Suzuki, dove abbiamo tutta la gamma Suzuki in pronta consegna e con il modello nuovo Swift, che è questo in esposto, motorizzazione 1.2, nuovo motore con il 17% di consumi in meno rispetto al modello vecchio, 1.2, 3 cilindri, motore a catena, affidabilità Suzuki, 86 cavalli, mild hybrid. Tutta la gamma Suzuki ha motorizzazioni mild hybrid, dove sostanzialmente si riesce ad accedere anche agli incentivi statali, che sono in vigore attualmente adesso, nel mese di giugno. ADAS di guida di livello 2, con angolo cieco, assistente di corsia, frenata automatica di emergenza, telecamera posteriore, sensori di parcheggio posteriore, fanalleria anteriore a LED completamente automatica, Bluetooth, USB, CarPlay, wireless, una motorizzazione, un'auto nuova, completamente nuova, presentata nel mese di maggio 2024. Se ci spostiamo, qui di fianco abbiamo anche Suzuki Vitara, di cui uscirà a brevissimo un restyling nella parte sostanzialmente estetica, questa motorizzazione 1.4 turbo, 129 cavalli, sempre motorizzazione mild hybrid, che accede anche a questo agli incentivi statali. Tutte le auto si possono avere cambio manuale, cambio automatico e con trazione integrale 4x4, dove Suzuki è un must nella trazione. Poi, se passiamo da questa parte, abbiamo il Suzuki S-Cross, dove si può avere anche lui manuale, automatico o a trazione integrale e si evitara che S-Cross si può avere nella motorizzazione full hybrid, quindi una motorizzazione che consente di avere ancora meno emissioni e consumi rispetto a una motorizzazione classica a benzina o mild hybrid. Poi abbiamo anche Ignis, dove c'è un unico allestimento come per Swift, dove anche qua motorizzazione 1.2, in questo caso 4 cilindri a catena, mild hybrid e anche questa accede agli incentivi statali, manuale, automatico e trazione integrale 4x4. E poi abbiamo uno dei pochi rimasti di Jimmy, che è questo esposto, questo è un chilometri zero, poi ne abbiamo altri nuovi da immatricolare, grigio, verde militare e bianco. Questi sono gli unici che abbiamo perché purtroppo non arriveranno più in Europa dall'anno prossimo. Questo è l'unico allestimento che c'è, 4x4 con le ridotte e motorizzazione 1.5 benzina da 102 cavalli. Da noi potete trovare anche la nostra gamma chilometri zero del multibrand, quindi si può trovare marchio Opel in questo caso, dove qui abbiamo esposto un Grandland, una corsa ibrido mild hybrid di nuova generazione e Opel Mokka. Ogni sia corsa che Mokka si possono avere con la motorizzazione completamente anche elettrica, mentre invece Grandland si può trovare con la motorizzazione plug-in hybrid. Di Grandland uscirà un modello nuovo, non un restyling a breve, dove si potrà avere completamente elettrica o ibrido leggero. Da noi potete trovare anche chilometri zero di Panda, questa per esempio è un chilometri zero, 1000, mild hybrid, 6 marce manuale, questa è in pronta consegna, motorizzazione che anche questa può accedere agli incentivi statali che attualmente ci sono in vigore, con uno sconto nel caso sul prezzo di vendita. Poi, oltre a questa abbiamo anche tutta, in questo caso abbiamo 208, però si può avere anche tutto il resto della gamma Peugeot, sempre a chilometri zero. Questa è una 208, benzina, 1.275 cavalli. Questo è un allestimento Active, adatto per neopatentati. E poi abbiamo anche 500, chilometri zero, 1.070 cavalli, manuale, sempre in pronta consegna, chilometri zero. Se poi ci spostiamo nella parte un po' più nascosta del nostro concessionario, abbiamo anche gamma Citron, in questo caso C3, modello 2023, inizio 2024, perché adesso attualmente è uscito il modello nuovo che arriverà nelle concessionari. Questo 1.2, sempre chilometri zero, 83 cavalli, modello U, adatto anche questo per neopatentati, con le cose basilari per la guida tutti i giorni. E se ci spostiamo nella parte, appunto, più nascosta della concessionaria, abbiamo, in questo caso, un chilometri zero Jeep Avenger completamente elettrico. Questo è un 156 cavalli con circa reali 350 chilometri di autonomia. questo è un allestimento il più bello che c'è. E poi abbiamo Peugeot 2008 automatico diesel, uno dei pochi rimasti diesel automatico, perché non si può più avere. Anche questo 1.0 km allestimento Allure. e poi abbiamo un'astra benzina manuale di questo colore di presentazione molto bello, col tetto nero, allestimento intermedio GS, che fa parte anche lei della gamma Opel. Come anche lì un'altra Corsa 1.2, in quel caso, 100 cavalli allestimento GS intermedio e poi per finire abbiamo anche una Volkswagen Polo in pronta consegna sempre a chilometri zero, arrivata da circa una settimana. Questo è un 1.000 allestimento Style intermedio con qualche accessorio in più aggiunto, molto bella, da venire a vedere e provare. Noi vi aspettiamo qui in concessionaria a Fidenza per visionare tutta la nostra gamma di multibrand e di auto in pronta consegna. PM Auto, Mobility Store Multibrand. Da noi trovi l'auto che vuoi. E se non ti accontentiamo comunque un caffè te l'offriamo. Vi aspettiamo!